Buongiorno, mi presento, sono Sandro Bilucaglia, Key Account Manager di CreditSafe Italia, che è una società del gruppo CreditSafe, che è una multinazionale dell'informazione commerciale. L'evento di oggi verteva sui crediti deteriorati, quindi NPL. In base a questo la nostra esperienza nell'informazione commerciale sull'Italia e sul resto del mondo ci porta a collocarci nel mercato per le società che hanno necessità di fare informazione massiva sulle persone giuridiche e sulle persone fisiche, partendo dai rating e arrivando fino alle indagini mirate sui dirigenti, sugli azionisti. Questo percorso può essere aiutato anche attraverso degli strumenti di integrazione dati, il quale è il più performante al momento è il 3D, che vi permette il monitoraggio e il controllo di tutto il proprio portafoglio clienti, dove si può andare a evidenziare il merito creditizio, l'assolvibilità positiva o negativa e soprattutto la possibilità di vedere con largo anticipo l'eventuale deterioramento dei crediti esigibili al fine di poter valutare il proprio portafoglio clienti nel merito creditizio. Detto questo, due parole su CreditSafe, che è una multinazionale che nasce in Norvegia nel 1997, da cui si è sviluppata in tutta Europa. Abbiamo 12 sedi, di cui naturalmente anche una in Italia. Peculiarità il fatto che il nostro servizio su 40 paesi nel mondo è online, quindi è immediatamente disponibile l'informazione commerciale su questi 40 paesi. Il nostro sito è www.creditsafe.it e vi saluto.